Innanzitutto lasciatemi dire un'altra cosa, che sulla base dei numeri che stanno esaminando il CTS la Lombardia rimarrà gialla anche la prossima settimana, anche perché uno dei parametri è ancora al di sotto del limite. Per quanto riguarda l'altro discorso, io voglio soltanto sottolineare che la richiesta che è stata avanzata è stata avanzata per una questione di trasparenza e di correttezza, per una questione di informazione che deve giungere ai nostri cittadini nel modo più corretto possibile. Allora è evidente che esiste una differenza tra chi entra in ospedale per una patologia che dipende dal Covid e quindi deve essere considerato come malato di Covid e chi entra in ospedale per un'altra patologia perché ha avuto un incidente stradale, perché deve essere operato di ernia, perché deve essere operato di appendicite e in quell'occasione si riscontra anche la presenza del Covid. Sono due fatti specie che io ritengo che per una questione di correttezza debbano essere distinte. È un discorso che noi stiamo facendo già dai tempi della prima ondata. È una questione di correttezza che riteniamo assolutamente fondamentale.